E' sempre l'acqua, con il pannello sciazzo, e con i collari, un uomo sciagnozzo. Signor pittore, c'è nessuno. Capitato che fosse ritornato, il cavaliere cavale a passì. No, sbaglio, il panier infatto. Angelus Domine Nunziavit, Maria, et concepit de Spiritus Santo. Et c'angilla, homini, ciat mi secundum perbuntum, et verbuntarum fattum est, et habitabili novis. Che fai, legito l'Angelus? Non c'è più, ne sono dolente, che un triste miscredente si guadagna l'indulgenza. Gliudegna, un uomo sciagnozzo. Gliudegna, un uomo sciagnozzo. Gliudegna, un uomo sciagnozzo. E questa sera, ampia curata, prega di Gala, palazzo farnese. E' una cosa nuova vantata con gloria tosca E nelle chiese india il signore Vaglia le scrive da più la parcia La parcia di salisìa la solita E' un'unica, e' un'unica Chi fa quelle pitture? Il cavaliere Camaragossi, lui Lui, l'amante di bosca Con un sospetto, con un volcani Voto, voto Chi è detto che fu? Se mi trovo nella cappella Questo maligno, tu lo conosci? Certo! E' il cesso del pittor Non nemmeno sputta quello che sai Non la sai ripieno di cibo prelibato Il pranzo del pittor Avrà pranzato Nella cappella Non ne avea la chiave Ne contava pranzar Disse gli stesso Non gliel'avea già messo Al ripacco Non glie'avea già messo Con un gliel'avea già messo Mi 우리가 ốa Non gliel'avea già messo Non gliel'avea già messo Onsare 元 ій Grazie a tutti